I Piani Castellani, che sono un'azienda vitivicola di Castellacuato, producono vini doc dei Colli Picentini, con i bianchi dove abbiamo l'Ortrugo Brut, che è uno spumante, uno Charmat lungo, con affinamento metodo Martinotti, affinamento in autoclave, un ortrugo frizzante, sempre con metodo Martinotti, dove praticamente le uve vengono scelte in funzione dell'esposizione al sole e delle condizioni climatiche e vengono raccolte in base al risultato che si vuole ottenere. Quindi per un Brut andiamo in vendemmia con una vendemmia precoce, che può iniziare alla metà di agosto, dove nel Brut si vuole ottenere i profumi giovani, si vuole cercare di conservare al meglio quelli che sono i profumi tipici dell'Ortrugo e con uno Charmat lungo si vuole avere una bolla abbastanza persistente. Mentre invece per quanto riguarda l'Ortrugo frizzante, bollicine più fini, quindi uno Charmat più breve e un'epoca di raccolta leggermente più tardiva. Questo perché nell'Ortrugo frizzante si vuole, oltre ai profumi dell'uva, anche cercare di avere un po' di struttura del prodotto. Poi abbiamo il Gutturnio, che è il cavallo di battaglia dei Colli Picentini, nella versione superiore per il Gutturnio fermo e nella versione frizzante, dove abbiamo sia il Gutturnio frizzante Piani Castellani che l'intenso. L'intenso prende il nome perché abbiamo all'interno del nostro appezzamento individuato un pezzo di vigneto che aveva una certa esposizione al sole e quindi secondo noi certe caratteristiche che abbiamo deciso di vinificare da solo. Oltre al Gutturnio, fermo frizzante e all'intenso, facciamo anche un rosè, un Pino Nero vinificato in bianco, che è anche questo con il metodo Martinotti, uno Charmat medio che tendenzialmente ha un'epoca di raccolta molto precoce anche lui. Facciamo anche la Malvasia, la Malvasia oggi ha un ottimo riscontro dal punto di vista commerciale in quanto sembra che da studi recenti sia stato individuato come l'uva che veniva coltivata da Leonardo da Vinci. Per cui la Malvasia oggi ha un mercato interessante, noi la facciamo sempre con il sistema Martinotti, ha una Malvasia molto fine, con degli aromi fruttati ma non troppo persistenti. L'azienda Ricola Piani Castellani ha l'obiettivo di cercare di andare a penetrare un mercato che è dell'alta ristorazione, quindi Orecà che oggi da un punto di vista qualitativo dà ottime rispondenze.